E' ovvio che Lazovic è il giocatore più schierabile, è un giocatore che comunque è in grado di portare bonus, è un giocatore che l'istato centrocampista può sicuramente rientrare nei quattro come quarto centrocampista, in casa si può schierare. L'altro giocatore che sicuramente è schierabile è Doig, è un giocatore esterno sinistro che gioca comunque parecchio in avanti, regala assist, regala gol, forse in leghe numerose Andrì su De Paoli.